ora ragazzi ritorniamo giù dal Mangart che in pratica è un monte un passo senza si può andare scendere e salire ecco si può solo scendere e salire però davvero spettacolare ragazzi consigliato e 10 euro però penso che per questi questi panorami qua poi strada tenuta benissimo ne vale davvero la pena dunque adesso scendo dal Mangart e potrei andare direttamente in Italia e Austria però resto in Slovenia per fare un altro passo credo dovrebbe essere un passo che mi porterà appunto in Austria quindi non passerò dall'Italia ma resterò in Austria quindi a dopo però guardate qua spettacolo manga spettacolare per un paesedolo abbastanza tipico guardate qualche casa questa tutta rossa bianca rossa bella 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 sto facendo la stessa strada che ho fatto a salire però ad un certo punto ci sarà un bivio un bivio che mi porterà verso penso un altro passo dovrebbe essere se non è un passo comunque è molto curvoso lo guardate qua sto qua dove è un campo della prima guerra il campo santo e andiamo a fare il passo direttamente dalla slovenia con furore con passione bellissimo e il passo vrzic devo ancora iniziare perché tra 3 km ci sarà penso l'inizio di questo vrzic bellissimo tanto guardate qua spettacolo grazie a tutti 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 ok ragazzi grazie a tutti 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 grazie a tutti